Si vede? Si perfetto! Bene ragazzi, qui Dido oggi è sabato quindi arriremo a un nuovo vlog con... Dida! Esattamente, con Dida ragazzi io sono molto catafratto oggi con un'opera d'arte mobile Esatto Allora ragazzi, questo è un vlog solito dove parleremo quindi delle news come al solito quindi direi di incominciare subito perché non vogliamo farvi scazzare quindi partiamo subito ragazzi allora intanto siamo a 79.600 iscritti quindi siamo arrivati a 80.000 bravi ragazzi, mi raccomando non mollate non mollate neanche al bagno quindi siamo quasi 80.000 iscritti ragazzi, ho già registrato il video speciale per gli 80.000 e tu sai cos'è? Sì ma non me lo ricordo voi no ancora? Va bene comunque poi lo vedrete alcuni mi hanno chiesto di fare un'ora di amnesia c'è altro un'ora di Walking Dead invece no, mi è venuta un'altra idea in mente e poi vedrete comunque allora, parlando invece del canale delle cose caricate in questa settimana allora abbiamo Amnesia ieri mi sembra oggi 15 sì, ieri è stato caricato Amnesia c'è stato il grande ritorno di Amnesia che bello sì è vero in effetti anche a me mancava non lo devo ammettere è stato molto apprezzato è stato molto amato e quindi niente, è andato bene e grazie mille per i 1100 pollici in su davvero grazie di cuore mi raccomando sempre così eh sempre così se no vi distruggo la macchina esatto dei 1100 in su qualunque cosa anche se carico un video di un secondo dove cago esatto poi è stato caricato Slot Petrol un indie random Walking Dead la parte 5 Maverick Bird che è il tipo il nuovo Flappy Bird con 1300 pollici in su grazie di cuore Color My World è un video molto speciale esatto molto bello e infine Happy Wheels che è stato tipo la novità del secolo con 2500 mi piace che è stato qualcosa di incredibile ma donna quindi grazie di cuore ragazzi Happy Wheels è una rubrica che andrà avanti tranquillamente il secondo episodio cioè il nuovo episodio già l'ho fatto quindi arriverà tranquilli che ora è una rubrica fissa non un episodio una volta all'anno come adesso e infine parlando invece d'altro allora intanto la scorsa volta abbiamo parlato quindi del Romics quindi non lo sto qui a ripetere ripeto solamente molto in breve che sarò a Romics che è una fiera che si tiene a Roma perché è lì che l'han chiesto esatto il 5 aprile giusto? sì molto probabilmente ci saremo da subito dopo pranzo giusto? sì esatto ma da presto comunque non dalle 4 cioè da subito dopo pranzo esatto faremo un po' in giro dei paviglioni magari poi ci concentriamo più esatto se poi scegliamo un posto sì infatti esatto ci pensiamo tanto c'è tempo importante chi vuole tanto ora sa che deve venire il 5 chi vuole esatto e poi vi dico dove dove trovarci tanto l'importante intanto è dirvi che ci vado poi poi per quanto riguarda il resto appunto anzi andiamo anche sulla fanpage a vedere a quanto siamo perché siamo a 18.300 pollici in su anche sulla fanpage inoltre le vostre bravo inoltre le vostre fanpage stanno andando benissimo ragazzi stanno andando davvero troppo bene continuate a caricare immagini imbarazzanti su di me su di lei screenshot fotomontaggi frasi epiche così quindi grazie di cuore perché scusate ragazzi sto continuando ad andare su facebook ma mi trovo o donne nude o troie o cose varie infatti quindi ecco ho chiuso facebook e si non sulla fanpage andavo sulla su sull'account e basta in bacheca intendo e vabbè quindi e vabbè poi a parte questo quindi il romix ve l'ho detto happy wheels appunto volevo dirvi volevo rassicurarvi che è una rubrica fissa amnesia idem amnesia ora sto cominciando questa custom story che ho cominciato questa custom story che rain vediamo quanto dura non ho idea di quanto duri dove vado dove vado e per quanto riguarda il resto direi stop vi volevo anche dire che arriverà a breve domani martedì vediamo un episodio di omigol finalmente me lo avete chiesto in tanti non sul mio canale ma sul josi esatto quindi sintonizzatevi su josi perché arriverà l'episodio di omigol ne abbiamo registrati due in entrambi abbiamo beccato i fan di questo canale quindi wow epico e poi vi faremo quindi vedere queste cose qui quando arriverà a omigol quindi appunto domani o martedì bisogna vedere quando riesco a montarlo perché con tutti i cazzi che spuntavano il lavoro di taglio e montaggio è davvero infinito quindi vediamo un attimo e poi per quanto riguarda il resto direi stop ragazzi direi che non c'è nient'altro di così incredibile impellente incredibile da appunto dire per quanto riguarda le varie rubriche come serie fissa per ora c'è solamente walking dead e amnesia stupendo se vogliamo continuare se vogliamo includere anche happy wheels mettiamocelo e poi gli indie vanno avanti per quanto riguarda south park e altre cose che volevo incominciare e aspettiamo ancora un attimo perché mi sono accorto che con the walking dead anche verrebbe un casino perché ci sarebbero due serie che non riesco poi a finire verrebbe un bordello quindi facciamo una serie alla volta ragazzi ok quindi poi chi loro vuole seguire da me anche se l'ha visto da altri benvenga se chi non vuole pazienza mi spiace ok è tutto a posto? si tutto a posto? no ok dimmi cosa c'è niente ah ok per quanto riguarda invece Josie anche lì sta andando bene ragazzi grazie mille per quelli che da qui vanno là e da là vanno qui anche là siamo a 5500 iscritti i video sono visti sono seguiti i commenti sono davvero tanti grazie grazie di cuore ragazzi a tutti voi grazie davvero di cuore e boh direi che abbiamo finito ci vediamo perciò nel prossimo vlog nel prossimo video nel prossimo qualunque cosa sarà è tu alla fine lasciate un qualcosa lasciate un mi piace un commento diventate solo fanpage su youtube da Diddo e Didda ciao ciao